Giovanotti ha lavorato dopo la caduta della bicicletta qualche giorno fa. L'intervento è andato bene. Ora un dolore molto forte ma passerà. Grazie a tutti. Il tuo affetto è un antidolorifico magico. È con sua moglie vacanza a Santo Domingoir. È finito in ospedale dopo un incidente bici che gli ha procurato la rottura della clavicola e del femore. L'incidente di Giovanotti a Santo Domingo stavo facendo bellissimo tour splendidi luoghi in mezzo alle piantagioni canna da zucchero. Non ho visto un dissuasore velocità e l'ho preso per intero. Detto Giovanotti sui social network dopo l'incidente. Ringraziando chi ha fatto la stessa cosa perfino una signora mi portato cocco per bere acqua cocco.